Mi sogno sono... sono due. Mi primo sogno è giocare nel mondiale. E il secondo è salire al campione. Se sei Dio, sarai Dio per sempre. Chi è questo mago del pallone e vittima della cocaina che dopo aver chiuso con la droga si è tramutato prima in Falstaff e poi in un testimonial dell'obesità. Il gol inflitto da Maradona agli inglesi e ai mondiali del Messico fu una rivincita, un inno alla giustizia. Se non avesse fatto il calciatore sarebbe diventato un rivoluzionario. È rivoluzionario nell'anima. Il mio paese lo politico è senza rinco. Però la gente non ne dà nada. Il modo in cui Diego Armando Maradona ha saputo farsi accettare è la prova che agli dei tutto viene perdonato. Non è vero che giugatore sarebbe stato io se non aveva fatto cocaina. Io sentia che i miei figli si dava conto che io stava dormito. Che le va dare un bello e mi faccia così. Però può essere tanto puto di perdere questo? Io mi equivoqué e pagué. Però... La pelota no... La pelota no se marcha. La pelota no... La pelota no... La lava ma定a più quella Sabbath. E per fai que van rollo a volare? La bringe una presenter settore sal re